Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video di Minecraft. Esatto, oggi siamo tornati qui. Ebbene sì signori, dopo... Allora qua abbiamo finito di costruire la nostra piccola casa sotterranea che... Casa non lo so ancora, campo base piccolino, però vabbè. Il fatto sta che oggi faremo qualcosa di particolare, del tipo... Prima di tutto devo tornare a casa. Sì, perché per quello che devo fare io devo tornare. Quindi torniamo. Zucchero non si sa mai se becchiamo un cavallo. Un vacallo e niente, andiamo. Allora a casa e da quella parte. Giù sì. Andiamo. Allora perché dobbiamo andare a casa? C'ho pecore, c'ho... Toccavolo devo camminare ancora, fin troppo. A me non va. Allora a casa mia. Non ho il letto? Sì ce l'ho io. Certo che ce l'ho il letto. Sì se ricordo... È quella? Piano. Spero che sia di qua. Non mi sto ricordando. Speriamo. E se non c'è speriamo di trovare un... Speriamo di trovare un cavallo. Aia aia. Ah... Donde è Sass? Salve l'ho pinto. Cavallino. Cavallino. Donde è Sass? Ma raga non so dove sono. Tanto ce l'ho il mio taccuino. Sì ce l'ho. Vediamo. Casa è verso quella parte. Noi dove siamo? Controlliamo. Stiamo andando bene. Però in negativo quindi... Sì dobbiamo andare verso questa parte. Sì vabbè comunque è giusto. È esatto ragazzi. Ragazzi è giusto. Giustino. Sì sì sì. C'è la neve. Per forza è qui. Come non ci... Come non possiamo scordarci la nostra amata neve. Visto che l'abbiamo avuta per più di... Quasi 40 episodi? Non lo so. Da un bel po'. Non sono ancora arrivato all'episodio 100. Ma neanche a metà del centesimo episodio. Non sono arrivato a nulla. Ah devo fare molti più video su questo. Ne continueremo. Ne continueremo. E fermo con costruzioni molto più belle di cose che abbiamo fatto. Allo. Allo. Casa. Casa casetta. Casa casetta. E non è ancora notte. Ah qua è dove siamo passati l'ultima volta. Sì vicino c'è il... L'igloo. Ottimo abbiamo finito il cibo. Vai. Vai così. Salve se ne ho poppy. Ne ho polli. Ne ho un pollington. Un'altra montagna. Dietro questa montagna c'è casa mia. Secondo me. Secondo le mie statistiche. Secondo... Dietro questa montagna c'è la mia casetta. Aia. Vediamo. Però sì dovrebbe essere lì. È che faremo una mega farm di polli. Signor polli. Vedi dei polletti. Fai un uovo. Spero di avere delle uovo. Le obbligheremo a fare un uovo. Fate un uovo. Malodette galline. Si sta facendo notte. E abbiamo scalato sta... Casa mia? Non la vedo. Quella non è casa mia. Scappiamo. Scappiamo. Aia. Sono già morto? Sono già spawnati? Orco. No, fra. No, fra. No, fra. Mi stare calmo. Io ho orco... No, raga, ma che siete? Ma siete scemi. Levatevi. Oh. Ma quanti siete? Ah. Questi sono patti. Aiuto. Oh. Ah. Chiudete sta porta. Aiuto. Che sono stati malati? Ma fatevi ricoverare. Oh, cibo. C'è del cibo? Non ti addormentare. Non vedi come sono. Ho bisogno di aiuto. Ti ho trovato un modo per sfuggire da qui. Scusa, non volevo picchiarti. Ho picchiato quello sbagliato. Non volevo picchiarlo. Sono vivo per miracolo, raga. Aspettiamo tutta la notte. Purtroppo non ce la faccio. C'è sto ragno di... Ma sto ragno... Dov'è il ragno? Ma sto ragno infame. Eccoti. Maledetto. Mi ha rovinato tutto. Mi ha fatto uccidere una persona innocente. Maledetto. Scusa, bro, se ti ho fatto... Scusa un cavolo, muori. Siete morti? Dove eravamo rimasti? Oh. Oh, state calmi. Oh, delle patate. Buono. Vai, grazie per le patate, ragazzi. Sono crude, però le accetto. Cioè, l'avevi liberato. No, scherzo, perché ho ammazzato uno, però... Salve, salve. Sì, sono io il salvatore. Sono il salvatore di mondi. Non ringraziatemi, non ringraziatemi. Ah, cibo, cibo, cibo. Una pala? Non sono stato io a picchiarlo, quello lì. Aia, oh, ma perché le mette per me? Che ho fatto? Mi ammazzo. Faccio salve, salve. Ah, dobbiamo rinforzare la nostra armatura, perché è potente, ma ergo. Devo livellare di più ergo. Tanto sono pieno di... Pieno di... Quella linea del nether, quella che è molto... Si guadagna molto da quella del nether, in confronto a quella lì del... Che c'ho qui, solo che quella che c'ho qui è a due passi, quindi... Io voglio quell'uovo. Vieni qua, uovo. Ci manca ancora tanto. Via! Oddio, Aerobrine. Una lavata di fuori. Sì. Comunque, sì, non è male. Più che altro per sbloccare anche altri possibili luoghi. Dovremmo farmare di più. O forse devo grindare molto di più. Esatto, no, perché... Non lo so, mi piace. Come una volta, un Minecraft... D'altri tempi. Ormai sono tutti... A me piace vedere Surreal Power. Addormentarmi. No, comunque... E penso sia il migliore a portare Minecraft. Quindi... Fare il suo... Cioè, seguire il suo stile per me è tanta roba. Sì, anche perché... Cioè, onestamente se uno vuole vedersi un gameplay... Serio di Minecraft, non so, guarda. Ma adesso... Te lo vedi per chillartela. Cioè, faccio una cosa lenta... Piano. O Minecraft, un altro canale. Al lù. Ok, dietro queste montagne si potrebbe vedere casa mia. Si potrebbe, non lo so. È la terza... È la quarta volta che lo dico. Non so se si vedrà mai casa mia. Stavamo per non vederla più. Quindi... Meglio andare di qua. Nanananana. Nanananana. Eeeh... Eeeh... Casa? Aig. Oh, ma io a casa mia non la vedrò più. Non la vedo... Non la vedo. Non vedo casa mia. Era con la parte. Era con la parte. Dai che c'è il mio... Ufi che mi aspetta. È lì che... Già è stupido. Poi deve pensare a provvedersi del cibo. Come si bere. Non capisce nulla. Cane un po' con qualche problema. Ah... Io non lo dico più. Oddio. Si sta facendo notte? Si va nana, bimbi. Ok, no, non ancora però. Tra poco si va nana. Si va nana, bimbi. No. Tra poco. Si va nana. Zizi. Si va nana. No, non si va nana. Anche perché se mi trovano qua, i mostri sono morto. La seria. Quindi dormiamo. Accendo anche la luce. Dorniamo a noi. Andiamo. Verso l'infinito e oltre. Non dico cosa... Cosa... Aia. Ah, fambrodo. Quanto ci manca? No, non lo dico perché non è vero. Ah, mi sono stancato. Voglio andare. Vai che c'è la mia fan di polli che mi aspetta. Deve essere creata. Guardiamo la terra. Tanto ne ho un botto. Voilà. E tu vai là. Eh. Sei zitta. Ah, vediamo, vediamo che c'è. Ok, ora devo tornare solo dritto così. No, raga, mi sono perso. Sto per morire. Sto per morire. C'ho fame. Sto per morire. Potrebbe andar peggio. O no? Aia. Che cavolo è essa? Io non penso di essere... Che strada sto facendo? Ho paura. Perché? Fa paura sta strada tutta... Tutta così. C'ho tre cuori. Non fatemi brutti scherzi perché non voglio morire. Madonna, fai attenzione che qua se salto pure addosso... Non voglio vedere in realtà. Andiamo piano. Perché ho deciso di prendere sta strada? Scusate. Cioè, veramente qua me la sono rischiata. Ma forte, neanche. Non poco. Poca. Ho bisogno di cibo. Cibo, vieni qua. Dammi cibo. Raga, mi sono perso. Non so più dove devo andare. Ok, sono a meno. Devo andare verso il più. Devo andare dritto per di qua. Ma raga, ho perso casa mia. Mamma mia, ho perso casa mia. Mi sento come il tipo del bosco. Mi sento come il sardo quello perso nel bosco. Aiuto. Un igloo. Un altro igloo. Oddio. Sai che ti dico? Ci facciamo un po' di cibo. Oddio, è proprio... No, è vero. Ma raga, che cos'è? Oddio, raga, non è che è una trappola? Come faccio? Cioè, chi se reg? No, raga, ma che è? Oh, fammi andare. Io non li sapevo. Raga, ma io non le sapevo queste cose. Io torno a casa. Eh, dai, aspettiamo. Oh, oh. Che cavolo era? Cioè, mi dormi, io ho paura. Ma perché? Cosa ho scoperto? Ui. Fra. Mi hai spaventato. Oddio, è vero. Oddio. No, no. Io che spavento. Ho sentito il rumore, mi sono spaventato. Cioè, non si fa sacco. Aia. Ho stesso rumore. Sento rumori ambigui. Voglio tornare a casa mia. Sto piangendo. Ma casa, dove sei? Torna da me. Non ho preso neanche la mappa. Paffan bagno. Non mi so portato nulla. Oh, pecora. Dov'è casa mia? Casa, casa. Madonna. Ogni volta. Corri a casa. Finalmente siamo tornati. La mia adorata casa. La mia dimora. La mia dimora. Il mio regno. Il mio regno di pace. Relax. Vediamo com'è il villaggio. Si sta prosperando. Anche se ne dubito. Qua che mi dite? Oh, calma qua. Passo gelato. Uh, questo è per slittare. Ah. Vediamo qua. E gli altri? Sono morti? Sono morti. Bello. Quello che volevo. Sono tornato qui dopo tanto tempo. E l'unica cosa che mi ritrovo. Sono cadaveri. È la vita. La vita di un ca... Ah. Guarda la... La porta. Del nether. Che ancora... Ma ogni tanto vado lì. La continua. Non so se verrà mai finita. Anche perché... Qua, qua invece... Guardate com'è prosperoso. Patata avvelenata. Che schifo. Qua la cosa per farmare. Qua come siamo messi. Il solito. C'è un po' di cibo. Non c'è... Non c'è cibo. Quindi vado... Occido un po' di animali. Chi è che vuole morire? No, tu no. Tu sei fuori. Oddio. 12 con... Madonna. Scusate. Eh, dovevo ammazzare loro mi sa. Un po' mi dispiace effettivamente. I porcellini non erano così tanti. O loro. O qualcun altro. Uno vale l'altro. Poi. Facciamo sta maledetta farm. Allora. Salve, salve, salve. Bisogna di voi. Quattro uova. Spero mi bastino. Allora, prende tutto. Vediamo. Si è cotto. Oh, no. Guarda. Ah, finalmente cibo. Buono. Ah. Dopodiché facciamo un po' di roba. Allora. Ci servono delle tramogge. Delle tramogge che sono... Ci servono due. Ne facciamo due. Bapapam. Poi ci serve uno paracosi. Distributore ci serve. Un distributore. Quindi ci serve un arco. Che è tutto qui. Ovviamente c'è anche l'arco. Ma questa cosa... Guarda che carico. Uno qui. Un arco. Beh, è possibile che non c'è l'arco? Eh, vabbè. Ce lo graffiamo qui. Allora, dov'è era il legno? No, non c'è il legno. È qua. È qua. Eccolo. Siamo qui. Bam, bounce. Ok. Un po' di spazio l'abbiamo fatto. Andiamo qui. Ci facciamo. Il dispenso. Bam, bam, bam. Qui giù. Uno. E tre. Ecco il distributore. Poi... Poi sei pezzi di redstone. Anzi, di più perché dobbiamo fare anche le... Le... Il quarzo c'è. Un po' di quarzo. Non l'ho fatto ne di troppo. Ah, vabbè. Vediamo se è bassa. Facciamo. Ah no, l'ho sbagliato. Me ne servono di più di queste. Poi ci serviranno un altro di questi. Un ripetitore. Un repeater. Ci serviva alla fine. Ok. Oh, livello 30. Io. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Andiamo. Allora. Efficienza 4. Un attraggio morbido 1. Efficienza 4. Ci servirà, ci servirà. E pietra liscia. Poi ci servirà. E infine il secchio di lava. Secchio di lava. No, uno ne manca. No. Un po' di sabbia. Non è che forse non c'ho sabbia. Ok, uno c'ho. Uh, un Milano. Ok, abbiamo questo. Ce ne servono 6. Quindi. Perfetto. La lava. Ci serve. Ce ne servono 9. Ok, e infine la lava. Ci serve la lava. Cioè, il secchio? Dovrei averlo, però non so dove. Quindi facciamo così. Vediamo se qua. Stavo l'entrata segreta. Oh. Mi capo. Un body. Oh, stavo l'entrata segreta. Mucho male. Eccolo. Eccoci. Ricordavo dell'entrata. Guardate che bella entrata, cavolo. Vediamo qua. Eccolo. Allora, funzionava. Sì. Um. Muah. Allora, dove facciamo la farm? Sai che ti dico? Io direi di farla interrata. No, dai. La facciamo. No, la voglio fare sotto. Non lo so, raga. Non so dove farla, sta farm. Dai, ragazzi, andiamo qui giusto per... Ma tu eri bianca un tempo. Che cavolo è successo? Con tutto rispetto, però eri bianca prima. Allora, facciamo qua. Alziamo anche i polli l'allevamento... Madonna, quante pecore. L'allevamento intensivo la facciamo qua. Fiamo anche i polli. Ci state? Sì. Ma no, non so nemmeno dove farla. Basta, la facciamo sotto. La facciamo sotterranea. Qui. E qua. Non me. Di one shot, è stupido. Ecco, mi mancava la neve. Allora, la farmina la facciamo qui. Fattando dei polli la famo qui. Quindi andiamo. L'allevamento intensivo è bianco al nether, no? No, ragazzi, veramente, non so dove farla. Facciamola qui. Qui la facciamo. Deciso. Basta. La sala del farming. Ok, possiamo iniziare da qui. Quindi due. Così. Ok, facciamo qua. Ok. Ok. No, ho sbagliato. Allora, tocca a fare... Dai, collegatevi. Ok. Ok. È collegata. Perfetto. Ora ci mettiamo qua sopra la slab qua per coprire. Qua il dispenser. So bene il dispenser. Sì. Ok. Dopodiché, il repeater. Quindi facciamo così. Allora, qua ci vuole anche... Allora, facciamo così. Ok. Così. E così. Anzi, al contrario. E così. Ora li colleghiamo tutti. E è pure più carino così, sai? Mi piace di più. Bello imboscato. Ok, dopodiché... Questa parte la copriamo. Così. Bam bam. Qua ci mettiamo il vetro. Ok. Dopodiché... Ah. Mettiamo tre blocchi temporanei. Bam bam. No. Ah vabbè. Maschè, li riprendiamo. Dove sono finiti? Dove è finito l'altro? Non è bloccato qui. Ah, eccoli. Vabbè. È partito. Non doveva partire, però è partito. Vabbè. E non funziona. Un po' di vetro. Ok. Ok, poi andiamo qua. Cavolo, dobbiamo andare sopra. Quindi... Facciamo tipo così. Ok. Andiamo qua. Bam bam. Ok, ora dobbiamo solo... Avere fortuna. Che cavolo di fortuna, raga. E niente. Ok. La farm è stata completata, ora manca la parte più difficile. I polli. I maledetti polli. Ah. Vediamo se saranno collaborativi con questa giornata di pioggia. Vedremo. Già sono pochi. Ma quanti ne ho di polli? Ne ho pochissimi. Allora, vabbè. Non c'è... Non c'è nulla. Non c'è dei semi. Non c'è semi. L'altro c'è semi. State zitti. Però io non ci credo che non c'è... Aia. Guarda quanti semi c'è. Guarda quanti semi c'è. Andiamo. Venite polli. Venite con me. Tutti qua. Adunata. Adunata dei polli. Oh polli. Polli venite qua. Seguitemi. Seguitemi. Seguite il cibo. Seguitemi. Non perdetevi. E non cadete. E non morite. Guarda quanto siete stupide. Talline. Aia. Tutte e quattro? Cioè mi tocca camminare così pure. Venite. Non perdetevi. Dai dai. Vedete quella lava? Non vi preoccupate. Non è niente. Non è niente. Venite. 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 Non vorri. Venite. Venite qua. Venite. Brava tu. Vieni. Vieni. Venite. Vieni. E andate. Venite. Oh basta. No mi sto arrabbiando eh. Venite. Venite andare lì. Vai lì. Venite subito la gallina. Vengo qua pronto. Sì. Guarda. Uno. Vai. Accoppiatevi. Fate un bambino. Fate tanti bambini. Vai. Pazzo. Andate. Andate e moltiplicateli. Muah. Eccola. La prana di polli. E niente ragazzi. Finalmente abbiamo fatto questa bellissima prana di polli. Però voglio il punto di esperienza. Guardate quanti sono. Poi non lo uccideremo. Andremo qua e faremo. Tipo. Tu vuoi morire? Tu devi morire. Tu muori. Tipo così. Beh. Fino a che funzioni. Vabbè. Sì. Arriva. Arriva. Arriverà. Vabbè. Spero che vi sia piaciuto. Commentatevi. Iscrivetevi. Se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo un posto video. Beh. Mi metto tanti vai. E via i polli.